Ho il piacere e l'onore di chiamare sul palco di Palazzo Mezzanotte per un saluto introduttivo la professoressa Paola Severino. Buonasera professoressa, il palco è tutto suo, prego. Grazie. E spesso perché accada questo? Perché tra noi penalisti c'è questa forte solidarietà, questo senso di amicizia. Una spiegazione di carattere paratecnico ce l'ho. Noi siamo tutti alleati contro un unico avversario, che è il pubblico ministero. Diversamente dalle altre categorie di avvocati che si contendono tra di loro, perché una volta difendi l'attore, un'altra volta il convenuto, ma il tuo nemico è l'altro avvocato, è l'avversario che devi sconfiggere. Quindi c'è sicuramente un tasso di conflittualità tra avvocati non penalisti molto superiore a quello che c'è tra avvocati penalisti. E questa è una cosa bellissima, che noi vediamo tutti i giorni in udienza. Oggi eravamo tutti, molti di voi che sono qui insieme in un'udienza difficile. Bene, quando c'è bisogno di decidere cosa fare, quando devi prendere quella difficilissima decisione strategica, del se fare una domanda al consulente di parte avversa, è bellissimo ritrovarsi tutti insieme e decidere insieme che cosa fare. Credo che questo senso di solidarietà ci accomuni e che questa bellissima cena nella quale siamo tutti insieme consolidi questo straordinario senso di solidarietà. La seconda considerazione è che noi facciamo questo mestiere con grande passione. Io ricordo, come sapete, nella mia vita ne ho fatti diversi di mestieri che giuotano tutti intorno al diritto naturalmente. Non mi sono dedicata ad altro che al diritto in tutte le forme. Però se mi chiedete la cosa che faccio con maggiore passione e che voi tutti e che tutti insieme facciamo con grande passione, beh, io vi direi l'avvocato penalista. Avevo otto anni quando in un tema di terza media, il solito stupido tema su che cosa vuoi fare da grande, io scrissi che volevo fare l'avvocato penalista. Forza di argomentazioni che mia madre conservò quel tema per anni, chiedendosi come mai questa figlia avesse tanta voglia di fare l'avvocato e non solo l'avvocato, l'avvocato penalista. E io credo che questo sia accaduto, non solo perché mio padre era magistrato, quindi forse c'è sempre questo piccolo desiderio di contraddire il genitore, tu fai il pubblico ministero che faccio l'avvocato, ma c'era anche un forte senso di giustizia. Perché io credo che da questo punto di vista non siamo spesso valutati per quel che siamo, ma che il senso di giustizia e di ingiustizia che avverte un avvocato sia pressoché unico. Noi sappiamo perfettamente quando una sentenza è ingiusta, quando qualcosa di ingiusto colpisce un nostro assistito e questo secondo me è lo stimolo per la nostra straordinaria passione, per la passione con la quale svolgiamo il nostro lavoro che così come quello del magistrato è un lavoro straordinario al servizio della giustizia. Ricordiamoci di questo con orgoglio quando affermiamo di appartenere a questa straordinaria categoria dell'essere tutti avvocati penalisti. Ultima considerazione. Ultima considerazione. Noi siamo capaci di occuparci di tutto, ma ovviamente senza prosopopea, senza presunzione. Noi ci dobbiamo occupare dal come funziona un sistema elettrico, a come funziona un aereo, a come si compattano i rifiuti, a come si tutela l'ambiente, a come funziona il digitale e quindi a come si tutela la privacy. Abbiamo bisogno di una straordinaria capacità mentale. Siamo dei contenitori di concetti che dobbiamo apprendere tutti i giorni. E allora c'è un'altra straordinaria capacità dell'avvocato, quello di essere modesto perché sa di dover imparare tutti i giorni, di dover imparare tutti i giorni qualcosa di nuovo. E mi sembra di aver compreso che il tema che si tratterà questa sera sia straordinariamente centrale da questo punto di vista. Il futuro, quello che sarà la professione dell'avvocato tenendo conto di tutte le modifiche che ci sono nel mondo che ci circonda. la rivoluzione digitale è una vera e propria rivoluzione, molto più della rivoluzione industriale perché è basata su concetti e non su cose materiali. Bene, noi ci dovremmo adattare a questo. Noi dovremmo formare dei giovani avvocati che siano in grado di usare il digitale ma anche di governarlo. Perché la cosa più importante e straordinaria che noi dovremmo fare sconfiggendo quelli che dicono, ridacchiando ma finalmente adesso col digitale non ci sarà più bisogno di avvocati? La mia risposta è no, ci sarà ancora più bisogno di avvocati perché il digitale è un mondo che va regolamentato e la regolamentazione del digitale e l'applicazione delle regole del digitale a tutela dei riti fondamentali dell'individuo sarà la nostra prossima frontiera. Dunque prepariamoci per affrontare questo nuovo traguardo sempre tutti insieme, sempre vogliosi di imparare qualcosa di nuovo sempre convinti che il merito sarà quello che ci premia perché io credo che un avvocato penalista venga premiato riesca a vincere i processi, riesca a tutelare il proprio assistito solo e soltanto se continua a sacrificarsi come noi tutti facciamo tutti i giorni studiando, continuando ad approfondire vincendo perché siamo più preparati grazie della vostra attenzione grazie mille, grazie mille professoressa grazie mille buona continuazione di serata l'applauso per la professoressa Severino grazie